La carne di Cosenza I capi vengono allevati allo stato semibrado, in territori naturali particolarmente vasti, ricoperti in parte da boschi ed in parte da pascolo cespugliato, coltivato per integrare in modo naturale l'alimentazione degli stessi. La caratteristica del suino nero di Calabria è quella di avere un grasso morbido, ricco di grassi monoinsaturi e polinsaturi. La concentrazione di acido oleico, il grasso benefico che si trova in grande quantità nell'olio, arriva al 68% nel suino nero di Calabria, percentuale di gran lunga superiore rispetto a quella riscontrabile in un comune maiale da grande distribuzione, che non supera il 30%. Ricco di Omega 3 con un ottimo rapporto tra Omega 3 ed Omega 6, se consumato con moderazione, il suino nero è salutare quanto il pesce, perché la stagionatura del grasso migliora maggiormente le caratteristiche, trasformando i residui acidi grassi saturi in polinsaturi. La missione della Mollo Aziende è quella di occuparsi scrupolosamente della crescita, dell'allevamento e del controllo dei propri suini, al fine di garantire l'autenticità, ma soprattutto la genuinità del prodotto, tenendo sempre presente la salute ed il benessere degli animali. A garanzia di ciò, su richiesta del cliente, è possibile fornire la tracciabilità dei capi allevati, ponendo un microchip specifico su ciascun capo da acquistare, processo che può essere assolutamente verificato al momento della consegna. Vogliamo promuovere l'autenticità e la genuinità del prodotto, ma soprattutto instaurare un rapporto di fiducia con i nostri clienti.